I dispositivi Gionix sono dispositivi di sanificazione attivi. Il plasma che viene generato dai nostri particolari attuatori ha la capacità di andare a caccia delle sostanze inquinanti, quindi viene generato in ambiente e decontamina da microrganismi e composti organici volatili presenti in aria. L'utilizzo dei dispositivi all'interno di locali pubblici o di ambienti professionali quali parrucchiere, estetica o bar ridurrà il rischio di diffondere malattie aerotrasportate. Questo non garantirà ovviamente che i vostri frequentatori siano completamente esonerati dal contrario malattie. Nel vostro ambiente saranno ridotti notevolmente i rischi. Fuori dal vostro ambiente non potete garantire alcunché. Garantire ai vostri clienti un'aria sanitizzata ridurrà notevolmente la possibilità di contrarre malattie all'interno dei locali. Ovviamente devono essere mantenuti tutti i presidi fisici suggeriti dal decreto mascherine, guanti e distanza sociale. Esistono molte ricerche scientifiche a proposito della capacità di riduzione batterica, microbica e virale dell'NTP. Noi stessi abbiamo condotto molte ricerche per la parte biologica e a breve partiremo anche con una ricerca specialistica per il mondo dei cobi. Bonificare è un'attività puntuale che viene condotta in un tempo relativamente breve ma che congele in quel momento la situazione. Non garantisce un'attività di sanificazione nel tempo. Già un X-Cube può rimanere in funzione costantemente. L'importante è fare attenzione a un corretto dimensionamento dell'apparecchiatura, di lasciare quindi impostato il dispositivo a livello minimo, medio, massimo in base alle dimensioni del locale. I dispositivi Jonyx possono essere utilizzati sia d'estate che d'inverno anche in presenza di aria condizionata o di finestre aperte. L'aria sanitizzata genera un ambiente inospitale alla diffusione dei microrganismi. Ricordiamoci che tutto quello che è previsto dal decreto non può essere sostituito da dispositivi di sanificazione, quindi mascherine, guanti e distanza sociale devono comunque essere mantenuti. La scelta del dispositivo più adatto alle esigenze professionali e industriali richiede l'intervento di personale tecnico. Vi chiediamo quindi di rivolgervi ai nostri rivenditori autorizzati o direttamente all'azienda. È possibile acquistare Jonyx Cube attraverso i nostri distributori autorizzati che trovate elencati nel nostro sito oppure dal nostro e-commerce. I distributori saranno in grado di darvi i migliori suggerimenti sia per il dimensionamento che per le caratteristiche di applicazione. Le nostre linee professionali STIL e MATE non richiedono l'intervento di personale specializzato né per l'installazione né per la manutenzione. Potete trovare all'interno del nostro canale YouTube tutte le istruzioni per le manutenzioni periodiche e per le sostituzioni quando necessarie dei generatori di plasma o dei filtri. L'installazione dei dispositivi della linea STIL può essere fatta dal vostro elettricista di fiducia. È molto semplice, basta seguire le istruzioni presenti sul manuale. I dispositivi della linea STIL vengono realizzati unicamente in acciaio AISI 304, non esistono altre versioni.